guardate è una coppola guardate guardate ma come vi permettete ma lo sapete che siete un branco di mafiosi no ma quali mafiosi noi siamo potenti di volta ma allora andatevi a prendere con la germini già fatto stamattina ma lo sapete che siete un branco di mafiosi e lo abbiamo già detto siamo studenti di volta e noi siamo agli e abbiamo disommossa con qualche infiltrato musica musica musica